salve ragazzuoli oggi vi racconto evil dungeon per il commodore 64 è un gioco ombrio un gioco di ruolo realizzato completamente in basic dallo sviluppatore greorg schillinger ed è uscito nel 2023 adesso non so quando pubblicherò questo video comunque da qualche giorno è uscito anche il seguito evil dungeon 2 ancora non l'ho giocato oggi vi faccio vedere il primo episodio questo evil dungeon 1 il gioco è scaricabile come al solito gratuitamente ma se volete potete anche lasciare una donazione sul sito dello sviluppatore che metterò in descrizione dato che appunto è un gioco di ruolo vecchio stile c'è la possibilità di perdersi perché non c'è un'opzione per l'automapping e quindi quello che farò sarà di creare una mappa interattivamente mentre mentre giochiamo mentre facciamo il gameplay questo utilizzando questo tool online che si usa per per creare delle mappe appunto in maniera interattiva molto molto semplice posso mettervi anche il link a questo a questo tool che utilizzo spesso per creare delle mappe di adventure giochi di ruolo e cose di questo genere ok andiamo a cominciare il gioco ok metto il warp per risparmiare un pochino di tempo chiedo che sia un gioco di ruolo molto classico insomma dungeon crawler qualche cosa del genere con un solo personaggio nel party dobbiamo esplorare questo dungeon e riuscire e riuscire suppongo a risolvere qualche genere di 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 missione che c'era vita abbia affidata vediamo un attimo la l'introduzione così capiamo qualche cosa sulla storia sulla storia di questo di questo gioco finisce ricaricare ecco qua show introduction yes però il suono delle porte ho provato a tenere attaccato ma piuttosto noioso perché ogni volta che si passa da una stanza all'altra si sente questa questa stanza questa porta che cicola quindi non è molto interessante ok vediamo l'introduzione il tuo viaggio comincia che devo fare devo aspettando è l'anno 235 dopo il regno di tali tu sei al rick che sei cresciuto come figlio di un fabbro e hai lasciato la tua casa qualche giorno fa dopo che i tuoi genitori sono morti in un incursione notturna di un gruppo di orchi con una clava con una mazza nella tua cintura e un po' di monete e un poco di cibo ti metti in cammino per la tua ventura per diventare un avventuriero sul cammino dell'avventuriero il pensiero di vendicarti degli orchi e lasciare il tuo ruolo di apprendista di fabbro dopo di te dietro di te ti ispira la tua sete di avventura dopo il quarto giorno i tuoi piedi cominciano a farti male il la tua sacca e il tuo stomaco sono vuoti e la pioggia comincia a cadere completamente esausto raggiungi la piccola città di radrick a sud della tua vecchia della tua vecchia casa cerchi alloggio per la notte e un pasto caldo nella taverna più vicina usando le monete che rimangono nel tuo portafoglio nella tua saccoccia quando vai al bancone della taverna il lost e ti da un ti guarda con con disprezzo con compassione comincia questa conversazione ehi ragazzo che cosa ti porta a radrick il mondo e l'avventura grande mondo e l'avventura la tua rispondi con l'ultimo l'ultima scintilla di sicurezza che riesci a a tirar fuori o un avventuriero beh mi sta bene ho un piccolo problema e potrei avere bisogno d'aiuto sareste interessato ti ti offro un letto birra e un pasto caldo in più tre monete d'oro se mi aiuti mi sembri abbastanza forte dai uno guardi il lost e stupefatto non ti aspettavi di trovare il tuo primo lavoro così velocemente dipende da quello che dovrei fare rispondi con cautela ascolta ragazzo tre giorni fa ho scavato una grande buca un grande buco nel muro della mia della mia cantina per allargarla un po dopo aver scavato ho trovato un passaggio segreto un mio amico nano mi stava mi stava aiutando perché sono troppo vecchio e debole per fare queste cose quando il passaggio segreto è venuto alla luce il nano era inarrestabile voleva esplorarlo la curiosità e il profumo dell'oro l'hanno attirato e mi ha chiesto un po di equipaggiamento gli ho dato torce una corda e uno dei miei attrezzi da scasso beh è scomparso nel corridoio oscuro e da allora non l'ho più visto ho sbarrato l'entrata e ho appeso un campanello in caso che il nano esca ma finora non è non è non è che andrebbe dopo esserti un po rimesso in forze di avventurarti nella cantina e vedere che cosa è successo come il come figlio di un fabbro hai già passato ecco hai fatto già qualche combattimento con con la clava con il con la mazza con te la paura di quello che si si annida nel nel seminterrato ti risveglia il desiderio dell'avventura e non da ultimo il desiderio di un pasto caldo di dormire in un letto confortevole decidi di aiutare il fabbro aiutare il fabbro no il fabbro il l'oste vabbè dopo un pasto un pasto delizioso vai nella tua stanza e ti addormenti per riposarti la mattina successiva sarai svegliato dal verrai vieni svegliato dal cantare del gallo e i primi raggi del caldo sole estivo dopo esserti vestito vai giù dall'oste fai colazione bevi un po d'acqua e vieni accompagnato dall'oste nella cantina ho già rimosso le le assi che lo sbarravano ecco di una una brussola ti dovrebbe aiutare a trovare la tua strada laggiù buona fortuna con una torcia in una mano ti entri nel passaggio segno adesso che c'è? check? ma vediamo se no dopo 50 metri nell'oscura profondità della terra raggiungi un muro di mattoni con una porta di legno che dirige verso est senti degli strani rumore e venire dalla stanza successiva adesso se andiamo in check ecco apriamo la porta e qui comincia il gioco vedete questa è la stanza della cantina che è vuota ci sono degli stracci in un angolo e una vecchia torcia sta bruciando su appesa al muro vedete in alto a destra ci sta la nostra scheda del personaggio, il nome del personaggio, punti esperienza, punti ferita, l'armatura, il numero di attrezzi da scasso le fiale incendiarie che sono delle bombe che possiamo tirare, passioni di guarigione, monete d'oro, larva che stiamo usando e il danno che facciamo un dado da 6 sotto ci stanno le cose che possiamo fare controllare la stanza, andare ad est, a sud, a est o a ovest però chiaramente vedete che solo l'indicazione verso est è illuminata quindi vuol dire che questa stanza ha solo una porta verso est quindi andiamo a disegnare la nostra prima stanza qua la facciamo più piccolina così e disegniamo una piccola disegniamo una piccola collegamento questo qua, no, come si fa? ehm, no vabbè qui ci sarà un'altra stanza che facciamo così e facciamo un collegamento fra queste due stanze se ci riesco ah ecco, così, perfetto questa prima stanza ci scriviamo dentro invece che room ci scriviamo start da dove cominciamo ok la prima cosa da fare è controllare la stanza check stai ispezionando la stanza e trovi una trappola che mi fa due danni ok adesso c'è anche la possibilità di trovare oggetti e cose del genere andiamo verso est apri la porta è una gran una larga stanza da letto con un sacco di letti probabilmente per le guardie e altri tipi di servitori ok, questo è strano perché non mi aspettavo di trovare allora facciamo così esatto disegniamo i collegamenti oh, come si fa? per altre per le altre stanze che ancora non abbiamo esplorato oh, perché non me lo disegni? così perché quello l'hai disegnato? ok c'è qualcosa che non capisco bene di come funziona questo tool allora questo io lo cancello adesso lo ridisegno vabbè, non appare vabbè, comunque ci sarà un'altra stanza qua qua e un'altra stanza qua mettiamo qua così adesso me lo fai il collegamento? sì allora questa è stanza da letto proviamo a controllare questa stanza ispezioni la stanza e trovi un'altra trappa ammazza che fortuna ok credo che si possa cercare più volte all'interno delle stanze però credo che quello che si trova è sempre casuale allora proviamo ad andare ancora a est apriamo la porta e ci troviamo a combattere con un goblin i goblin sono i più i più scrausi dei nemici del fantasy quindi attacchiamolo senza senza porre tempo in mezzo vedete attacco ho sbagliato l'attacco adesso tocca al goblin che prova ad attaccare e ha sbagliato anche lui continuiamo il combattimento successo e il goblin ha provato a parare ma fallito credo che i combattimenti siano così lui prova ad attaccare e sbaglia se uno dei due riesce nell'attacco l'altro ha la possibilità di parare attacco sbagliato adesso tocca a lui è riuscito ma io sono riuscito ancora a parare in ogni momento c'è la possibilità anche di sfuggire al combattimento però dato che questo è il nostro primo combattimento proviamo a portarlo fino in fondo vedete e vediamo ha rimasto solo con tre cuori ha mancato l'attacco ok non è riuscito a pararsi è rimasto con un cuore solo la grafica è molto però sono riuscito a pararmi la grafica è molto molto semplice ma è tutto quanto programmato in basic quindi la grafica è fatta con con i caratteri quindi è molto molto semplice ecco abbiamo sconfitto il nostro primo nemico e che cosa facciamo troviamo una fiala incendiaria che può servirci per i combattimenti quelli un po' più cazzuti un'altra stanza da letto con due grandi guardarobba e le lampade olio si sono spente adesso qui scriviamo ancora stanza da letto così ci ricordiamo e c'è anche questa un'uscita verso sud qua che non me la disegni ok e quest'altro che ha così che non me la disegni ok non me la disegnata e ci sono altre due stanze e proviamo prima di tutto a dare un'occhiata alla stanza ispezioni la stanza e trovi 20 monete d'oro buono continuiamo verso est il gioco devo dire è piuttosto carino questa sembra essere un la lavanderia perché nel muro ci sono dei lavabbi insomma e una vasca al centro della stanza ok quindi questa è dove insomma la lavanderia la lavanderia ok e dove ce l'ha le porte su tutti quanti e quattro i lati c'è un motivo per cui non mi fa devo premere a volte non me li disegna ok vabbè facciamo disegnare prima le stanze magari se disegno le stanze è più facile connetterle di qua di qua e di qua no così ecco e adesso proviamo a fare i collegamenti per le stanze così me li disegno subito o è un bug o è qualcosa che non ho capito ok disegniamo la stanza pure qua che ci sarà che ancora non abbiamo esplorato bravo ecco qua proviamo a andare verso ah no controlliamo questa stanza prima di tutto e ho trovato un attrezzo da scasso non so ancora cosa servono però può sempre donarci utile andiamo adesso verso nord va un guardarobba ci sono ma molti oggetti molti abiti per scopi diversi alcuni grembiuli per cucinare abiti per le guardie e delle codes dei cappotti e ci sta allora quindi questo è guardaroba qui mettiamo un'altra stanza questo lo chiamiamo guardaroba così ci ricordiamo guardaroba si ok controlliamo questa stanza la ispezioniamo e troviamo uno strano artefatto blu che non so che cosa sia adesso è apparso sotto artefatti forse ne dobbiamo trovare uno per ogni colore non lo so proviamo ad andare adesso verso est questa stanza sembra essere riservata per le guardie di livello superiore e sembra essere più più copota delle altre vedete che c'è disegnato uno scrigno forse gli attrezzi da scasso servono a questo quindi qui ci spieghiamo guardia la stanza della guardia ok e non ci sono altre uscite ispezioniamo la stanza e troviamo uno scrigno vuoi usare il lockpick la testa scasso si lo apro e trovo un artefatto rosso ok interessante quindi abbiamo già trovato due artefatti perfetto torniamo indietro credo che i mostri si rigenerino adesso andiamo a sud per ritornare dove stavamo prima e adesso proviamo ad andare ancora a est questa nuova stanza che non conoscevamo conosciamo ancora è una stanza un po' piena di confusione ci sono un sacco di scope e altri oggetti che servono ai servitori quindi questa la chiamiamo la stanza delle scope ok controlliamo la stanza non so a cosa servono gli artefatti e ho trovato un artefatto giallo probabilmente dovremmo raccoglierli di tutto raccogliere tutti quanti tutti quanti gli artefatti tutti i colori ritorniamo a ovest e adesso andiamo a sud l'armeria sfortunatamente tutti tutte le 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 rastrelliere delle armi sono vuoti ci sono solo alcune parti di armatura arrugginita che sono state lasciate qua quindi allora questa la chiamiamo armeria armeria e c'è anche una porta verso sud quindi disegniamo un'altra stanza qua e facciamo il collegamento da questa a questa ok però controlliamo comunque questa stanza perché ci potrebbero essere nascosti degli oggetti inspezioni la stanza e trovi un altro attrezzo da scasso buono continuiamo verso sud c'è un altro un altro scrigno ma vedete che c'è un wright che questi sono animali piuttosto animali piuttosto cattivi però proviamo a tirargli contro una delle nostre fiale di fuoco vediamo che succede ah il fuoco non fa male ai fantasmi ok quindi probabilmente sarà il caso di scappare quindi qui ci scrivo la right è un non morto e proviamo a scappare in quale direzione solo verso nord dobbiamo premere f1 quando la freccetta si trova la croce si trova ecco nel punto giusto non ci sono riuscito e quindi mi ha fatto male mi attacca aio mi ha fatto tre danni proviamo di nuovo a scappare dove cazzo mi sono sbagliato quindi vedete per scappare non è puramente casuale ma bisogna riuscire a premere il tasto nel momento giusto cazzarola non ci sono riuscite neanche stavolta vabbè proviamo ad attaccarla vediamo se riusciamo a fargli del male magari possiamo fargli del male dubito di riuscire a far male a un fantasma con una mazza e invece si ok proviamo a continuare proviamo invece di scappare come dei coderdi a picchiarlo ah gli hanno fatto quattro danni no forse è meglio scappare anche perché non ho pozioni di cura allora orca miseria ma non ci riesco mai ok ha sbagliato il suo attacco quindi è un'altra opportunità per provare a scappare no stavolta ce l'ho fatta perfetto e ritorniamo dove stavamo prima quindi qui ci ricordiamo che c'è questo mostro che è abbastanza cazzuto allora ritorniamo verso nord qui ci eravamo aggiandati torniamo nella stanza da letto a ovest e proviamo andare a sud in questa stanza che non avevamo esplorato un corridoio con i muri di pietra che sembra portare ancora di più in profondità nella cantina e c'è una un'uscita da questa parte e anche una verso sud allora disegniamo la stanza qua a sud colleghiamo e questo lo chiamiamo corridoio corridoio allora prima di andare giù nel corridoio vorrei andare in quell'altra stanza intanto prima controlliamo questa stanza vediamo se c'è qualcosa di interessante ho trovato un altro attrezzo da scasso buono allora andiamo verso ovest in quest'altra stanza che prima non avevamo esplorato c'è un ratto e un e uno scrigno quindi combattiamo senza paura questo ratto lo riusciamo a colpire i ratti dovrebbero essere i i nemici più semplici ancora più semplici dei goblin lo lo mettiamo non è riuscito a pararsi attacchiamo di nuovo sbagliato l'attacco riesce ad attaccarmi non riesco a pararmi e mi fa due danni spero di trovare un un'azione curativa da qualche parte gli ho fatto tre danni lui me l'ha fatti tre cavolo pensavo che erano semplici i ratti ma sono più cattivi dei goblin è riuscito a parare dovrei dovrei anche trovare degli oggetti per potenziarmi perché sono abbastanza scannato ho sbagliato l'attacco suppongo che poi si passi di livello quando si accumulano abbastanza punti esperienza ho fatto un danno lui è riuscito ad attaccarmi però sono riuscito a pararmi ultimo ultimo attacco sconfitto e non c'è niente da da prendere però qui vedo che c'è uno scrigno con cui utilizzerò il mio lockpick e tento trovo 50 monete d'oro ok allora che stanza era ah ecco una piccola cappella con un altare candele e alcuni murali un banco per le preghiere e degli strani delle strani divinità di metallo ok quindi questo è l'altare le uscite sono solo in queste direzioni questo lo chiamiamo altare altare ok proviamo ad andare verso sud uno scheletro oddio proviamo ad attaccarlo i scheletri dovrebbero essere abbastanza maneggevoli per essere dei non morti poi comunque non è che c'è tanto non ci sono altri posti dove andare o forse si mi ha fatto tre punti danno aia proviamo a fare un altro attacco ok è piuttosto debole mi ha fatto sei danni ha mancato il suo attacco riesco ad attaccarlo non riesce a pararsi e l'ho sconfitto ok ho trovato una fiala di fuoco che potrebbe tornarmi utile non contro i bright come abbiamo visto prima si trovi nella cucina ci sono delle pentole per cucinare nell'angolo si trova un camino e un forno allora quindi questa è la cucina cucina e ci sono dei collegamenti in tutte le direzioni allora quindi c'è qua poi c'è un altro collegamento verso sud e un altro collegamento da questa parte così quindi indichiamo questa porta così e questa porta così esploriamo questa stanza e ho trovato un altro attenzio da scasso proviamo a andare a ovest con quest'altra stanza qua un orco che sono i nostri nemici mortali proviamo a tirargli la fiala di fuoco vediamo quanto gli fa male perché ci hanno armatura uno vedo quindi sono un pochino più difficili da combattere ok gli tiri la fiala che gli fa un bel po' di male ok e adesso lo attacchiamo sperando di riuscire a farlo secco alla svelta perché non ci faccia troppo male esatto sono riuscito ad ammazzarlo subito bene così e trovo un'altra fiala bene a questo punto però questa è una stanza senza senza uscire quindi speriamo che ci siano degli oggetti all'interno la dispensa è piena di shib come pane e salsicce e conserve diamo un'occhiata e ho trovato un'altra fiala ok quindi qui ci scriviamo dispensa ritorniamo nella cucina e andiamo verso sud vediamo che cosa c'è è una gigantesca sala da pranzo piena di tavoli piatti posate e avanzi di cibo e c'è un'altra stanza qui a ovest e un'altra stanza verso sud quindi questa è la sala da pranzo sala da pranzo e poi facciamo così e così ok si controlliamo questa stanza ho trovato un altro attrezzo da scasso dobbiamo andare a ovest ovest ok ti trovi in una grande libreria piena di scaffali per libri e pieni di libri sconosciuti diamo un'occhiata e trovi una porta segreta ad ovest oh interessante quindi questa è la libreria libreria sì e qui c'è una porta segreta che porta in una stanza sconosciuta allora facciamo no questa va qua facciamo un collegamento però questa qua la faccio tratteggiata esatto perché è una porta segreta proviamo ad andare verso ovest ancora cosa ci sarà oltre questa porta segreta ti trovi hai scoperto una stanza segreta e nel centro si trova un grande scrigno diamo un'occhiata apriamolo con il nostro lockpick e dentro trovi una spada la prendi con te ottimo quindi adesso ci siamo un pochino potenziati quindi qui ci scriviamo spada ritorniamo verso est siamo ritornati nella libreria ritorniamo ancora verso est e proviamo ad andare a sud oh un altro goblin però adesso non ci fanno più paura credo perché abbiamo una spada che fa da 3 a 8 quindi un dato da 6 più 2 però ho mancato il colpo anche lui ha mancato il colpo continuiamo con l'attacco ok gli ho fatto 3 danni il minimo possibile lui invece riesce ad attaccarmi e mi fa 3 danni non ho ancora trovato pozioni di guarigione che cominciano a servirmi perché ho solo 10 punti ferita è riuscito a pararsi continuiamo il combattimento io ho fatto 6 danni ok mi servirebbe o una pozione di cura ferite o un o un'armatura ok sconfitto troviamo una fiala incendiaria come vedete quindi i nemici si rigenerano andiamo adesso verso sud un orco azzo eh tiriamogli la la fiala infuocata ok viva gli ha fatto un bel po' di danno attacchiamolo a questo punto siamo riusciti nel nostro attacco però lui è riuscito a pararsi ok lui è riuscito nel suo attacco ma anche io mi sono parato ok non so quando si passa di livello ho mancato l'attacco lui pure vedete il combattimento è molto molto semplice non è che si può fare niente si può solo decidere di scappare o tirare le le fiale incendiarie che fanno fanno l'altra distanza ok sconfitto l'orco bene trovo un'altra fiala di fuoco perfetto mi trovo in una vecchia cantina due dozzine di barili di vino e bottiglie di vino impolverate si trovano in giro quindi questo è un altro pezzo della cantina quindi qui ci schiamo cantina inoltre c'ha un collegamento una porta a ovest così ok perché non me lo disegni perché non lo disegni ecco perché non disegna qui la disegniamo vabbè facciamo così facciamo come l'ha disegnata controlliamo questa cantina diamo un'occhiata c'era il lo scrigno del tesoro e apriamo e dentro troviamo una pozione oh bene è una pozione curativa che possiamo usare con il tasto H però adesso ancora non lo usiamo proviamo ad andare a ovest poi mi domando se continuando a cercare si possono trovare altri oggetti no andiamo a ovest questa sembra essere la discesa per una cripta l'aria è umida e odora di morte e decadimento quindi qui immagino che cominceremo a trovare i non morti diamo un'occhiata alla stanza comunque questa è l'ingresso della cripta e trovi una pozione di guarigione ok quindi qui ci scriviamo ingresso cripta e c'ha un'uscita verso sud quindi spostiamoci un po' qua disegniamo una stanza che prometta sarà la cripta e poi facciamo disegniamo la porta no la adesso però io voglio andare a vedere questa stanza qua che ho lasciato indietro allora ritorniamo un attimo indietro quindi andiamo a est qui però c'è il problema di poter rincontrare dei mostri qui c'è il lo schignogamo già aperto ok questa è la sala da pranzo ritorniamo verso nord e proviamo andare questa volta a est vediamo cosa c'è in questa stanza ok è un bagno quindi semplicemente il gabinetto bagno ok controlliamo questa tuelet e vediamo se troviamo qualcosa interessante e trovi niente ok come ho detto proviamo allora ad entrarci in quella cripta torniamo a ovest ogni volta che facciamo così però c'è una certa probabilità di rincontrare dei mostri quindi probabilmente non è bene lasciare indietro delle stanze ok la sala da pranzo la cantina e ritorniamo nell'ingresso della cripta adesso andiamo verso sud una mummia oddio allora intanto per cominciare fatemi disegnare le altre quattro stanze e tre stanze perché vediamo che ci sono porte su tutti i lati questa la metto qua questa la metto qua questa la metto qua poi così 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 e così e boh che facciamo io tiro una fiala infuocata perché non voglio correre rischi dovrebbe fare molto male le mummie infatti e poi la attacchiamo con la nostra fida spada e la ammazziamo subito bene così però non c'è niente da predeare ti trovi in una vecchia cripta al centro della camera di sepoltura si trova si trovano dei vecchi sarcofagi 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 aperti ok diamo un'occhiata check speriamo che non saltino fuori dei mostri e trovo un lockpick allora questa qui quindi diciamo che è la cripta cri ta ok a questo punto dove andare proviamo ad andare a est vediamo che cosa si trova devo dire che abbastanza è fatto molto bene è carino piuttosto coinvolgente ok un tunnel oscuro che connette il la cantina con la cripta non riesci a vedere le mani di fronte alla tua faccia io vedo che c'è una porta verso nord però mi sa che è una one way door perché nella cantina non si vedeva comunque diamo un'occhiata e ho trovato una trappola che mi fa un danno vabbè proviamo a tornare a nord così giusto per curiosità no mi trovo in un'altra stanza ok interessante allora quindi vuol dire che qui c'è un'altra stanza allora lo faccio vediamo provo a fare così va perché non so bene come come sono disposte qui c'è tipo una no questa è stanza buia stanza buia e poi sembra avere un no un collegamento così con una stanza che poi ha delle uscite tipo qua e anche verso nord interessante non so bene com'è com'è la mappa però io la sto disegnando così allora così va bene e attacchiamo il ragno speriamo che non sia difficile perché ho un po' di molti ferita ho mancato il mio attacco e lui è riuscito a colpirmi però non mi ha fa ah no sono riuscito a pararmi ok attacchiamo ancora sono riuscito nel mio attacco e lui non è riuscito a pararsi ok ho fatto tre danni riesce a colpirmi ma io riesco a parare ok attacchiamo ancora riesco nell'attacco e lui non riesce a pararsi ed è sconfitto ok non c'è niente da predare e adesso mi trovo in una vecchia cantina ad arco piena di molte fitte tele di ragno senti grattare nell'oscurità quindi questa è ragnatele diciamo ragnatele ok ah c'è un'altra connessione qua che non ho disegnato ok e però diamo un'occhiata perché che cosa c'è in questa in questa stanza così ho trovato una fiale ok proviamo ad andare verso nord vediamo che cosa troviamo vicino alla prigione c'è la la stanza delle guardie un tavolo di legno spartano una sedia e alcuni documenti si trovano in giro quindi questa è la stanza delle guardie stanza delle guardie ok quindi qui da qualche parte ci dovrebbe sta una prigione controlliamo quindi sotto a questo ho trovato il lo scrigno va bene apriamolo e ho trovato una fiala di fuoco va bene però vedo che anche da qua ci stanno uscite su tutti i lati quindi io fare una cosa fatta bene faccio così seleziono tutte queste stanze lo posso fare non così faccio così no allora faccio così e lo sposto in basso perché continuo ad andare verso nord da qua allora facciamo così ecco questo è qua lo sposto tipo qua così però questo non è connesso alla stanza delle guardie questo è connesso qua esatto e questa stanza ha una stanza qua può darsi pure che sia un altro piano eh io continuo a disegnarla sullo stesso piano ma magari sono sceso al piano di sotto allora così la stanza delle guardie ha collegamento qua così e un collegamento qua così ok perché non lo disegni ok vorremmo andare verso nord va un corridoio che sembra portare ancora più in profondità nella cantina e vedete che c'è una porta verso nord e una porta verso ovest quindi immagino che da qui siamo scesi a un altro piano quindi non so quanto sia saggio continuare a disegnare tutto sullo stesso piano perché secondo me si incasina ha un'uscita verso nord e un'uscita verso est la facciamo così queste le porto ancora tutte quante così e in queste in più le devo spostare almeno così ok disegniamo una stanza qua no una qua e un'altra qua adesso il la mappa comincia a farsi incasinata ok questo abbiamo detto corridoio corridoio allora diamo un'occhiata a questa stanza adesso voglio andare a vedere queste due stanze che non ho visto prima e trovo niente ok andiamo verso sud torniamo nella stanza delle guardie andiamo verso est e trovo uno scheletro allora vediamo che questa stanza è connessa verso quest'altra stanza qua ok proviamo a combattere allora usiamo la pozione di guarigione va ecco e poi attacchiamo normalmente lo attacco e lui non riesce a pararsi vabbè gli scheletri sono abbastanza stupidi però mi ha fatto 5 danni i mortacci suoi attacchiamo attacchiamo non riesce a pararsi rimane con un punto ferita riesce a colpirmi ma io riesco a pararmi continuiamo ad attaccare ho mancato il mio attacco lui riesce ad attaccarmi e cazzo mi fa altri 3 danni i mortacci suoi attacchiamo ancora riesco a colpirlo ma lui riesce a pararsi un'altra volta qui sbaglia il suo attacco sbaglio il mio attacco riesce a colpirmi ma sta a fare i pozzi non sono riuscito a pararmi mi ha levato 8 punti ferita ah finalmente l'ho sconfitto e trovo 7 monete d'oro questa è la prigione un lungo corridoio con celle a destra e a sinistra e dentro alle celle ci sono dei letti di paglia catene e degli scheletri ormai spogli quindi questa è prigione controlliamo la prigione poi una cosa che non ho capito è se io controllo una stanza sono sicuro di aver trovato quello che c'era da trovare oppure la dovrei controllare più volte boh non lo so dovremmo andare ancora a sud una sala di torture la stanza è nella stanza si trova vabbè crudeli strumenti di tortura e c'è anche una stanza qui a sud così così ok quindi questa la chiamiamo torture tor pure ok controlliamo quello che c'è in questa stanza e trovo un attrezzo da scasso allora adesso andiamo verso sud vediamo che si che si vede è la stanza da letto del boia un letto pulito un guardarobba e un nobile scrigno di legno si trova nell'angolo della stanza allora quindi qui ci scriviamo stanza da boia insomma l'ha detto alle impiccagioni che ne consiglia boia troviamo lo schigno del tesoro che apriamo con il nostro attrezzo da scasso ce n'è rimasto uno solo e troviamo un artefatto verde vediamo che vedo che ci sta lo spazio solo per 5 quindi forse ce ne manca uno solo va bene a questo punto andiamo ad esplorare quelle altre stanze che si trovano a nord della stanza della guardia quindi ritorniamo a nord sperando di non incontrare altri mostri ancora a nord andiamo a ovest oh un ghoul eh c'è un sacco d'energia tiriamo gli una fialetta ok gli fa male quasi quasi gliene dirò un'altra e l'abbiamo sconfitto va bene va bene qui già c'eravamo stati quindi la stanza delle guardie ok andiamo verso nord va bene e adesso andiamo ancora verso nord nella stanza che prima non avevamo visitato un'altra stanza da letto ci sono due grandi guardaroba di legno e vediamo che ci stanno dalle porte delle stanze a a est e a ovest quindi le mettiamo una qua così e un'altra qua così questa è la stanza da letto e facciamo le connessioni qua che non mi ha fatto e qua qua ok diamo un'occhiata come al solito vedete è importante fare la mappa perché non troviamo niente perché è facile è facile pertersi proviamo andare a ovest una grande stanza da letto con un sacco di sei letti probabilmente per le guardie o altri servi controlliamo e non troviamo niente quindi questa è un'altra stanza da letto dicevo nella lo scantinato dell'host c'è un vero e proprio dungeon quindi mi domando quale sia la storia che sta dietro a questo allora spostiamo tutto quanto con chicco qui c'è un collegamento verso sud che probabilmente porta in questa altra stanza e qui c'è un'altra stanza che dobbiamo andare ad esplorare ad esplorare così 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 ok proviamo ad andare a sud per esempio in quella stanza che non abbiamo visto prima una piccola cappella con un altare candele però questa sembra però l'altare di prima mi domando se sono mi sa che sono ritornato sono ritornato all'inizio perché questo sembra l'altare due stanze da letto può darsi che sono ritornato in qualche modo alla stanza prima vediamo se andando ancora a perché questo è già aperto sì sono ritornato all'altare quindi aspettate ho fatto qualche casino con la mappa altare allora come è possibile ah no scusate non è questo questo è il room questa si chiama ancora room e questo è l'altare altare allora quindi però io dalla stanza le guardie sono a nord e sono ritornato in questo corridoio qui come è possibile questo letto letto e questo sarà di nuovo lavanderia sono un pochino perché sotto la stanza letto c'è il corridoio ok ma qui a sud c'era il bagno non la stanza delle guardie come è possibile questo vedete lo scrigno è già aperto quindi suppongo che da questa stanza delle guardie in qualche modo si ritorna a questo corridoio qua in qualche modo devo aver fatto qualche casino con con allora scusate un attimo adesso mi trovo nell'altare quindi se io vado a sud ritorno nella cucina vediamo no non andiamo nella cucina proviamo a ritornare a est nel corridoio se io vado a sud ritorno alla stanza delle guardie fatemi ritornare un attimo nella cucina e poi nel bagno perché mi sto un po' incasinando guard room allora andiamo a nord a nord allora io vado a west e poi a sud mi li dovrei ritornare nella cucina ok sud si quindi se io vado a test dovrei trovarmi nel bagno si ah no vedete qui non c'era non c'era il collegamento verso nord ok quindi questo qui lo levo ok quindi allora tutte queste qua le posso togliere ok va bene ok 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 va bene quindi questo direi che l'abbiamo finito ritorniamo nella cripta allora ritorniamo a ovest siamo all'altare andiamo a sud no siamo nella cucina sala da pranzo andiamo ancora a sud entriamo nell'altra parte dell'altra parte della cantina andiamo a ovest per ritornare nell'ingresso della cripta e ritorniamo a sud ok vabbè è fatta così quindi qui probabilmente c'era c'era dello spazio va bene ok allora vediamo un po' cosa ci manca qui proviamo a andare a ovest una stanza decente alla cripta in questo mausoleo ci sono molti corpi morti che si trovano in alcuni fornetti di pietra diamo un'occhiata mausoleo lo chiamiamo e troviamo 11 pezzi d'oro allora quindi questo è mausoleo mausoleo ok e ha anche un'uscita verso sud ok quindi facciamo una stanza qua andiamo verso sud e ci troviamo contro un ragno che vabbè attacchiamo successo mi ha parato mi attacca e io non riesco a pararmi mi ha fatto tre danni riattacchiamolo abbiamo ancora una funzione di corrigione è riuscito a parare un'altra volta sono difficili da colpire questi ragniacci non riesco a colpirlo non so bene i punti ferita a cosa servono si ancora 6 danni cazzarola sicuramente ci fanno aumentare i punti ferita probabilmente ci fanno aumentare pure la capacità di attacco sono riuscito a colpirlo anche lui mi colpisce non riesco a pararlo mancato l'attacco lui mi riesce a colpir e mi fa ancora dei danni 4 danni cazzarola oh ma sono forti questi ragni dovrò usare l'ultima pozione e cavolo ho sbagliato un'altra volta l'attacco sono riuscito a pararlo dai su c'ha solo tre punti ferita dai madonna mia è difficile da colpire sono riuscito non sono riuscito a pararlo non sono riuscito a colpirlo parca miseria ladra devo usare la pozione di cura ferita se non muoio healing potion ecco ok attacco niente non riesco a colpirlo sono deboli ma molto difficili da colpire niente spero che ne sia valsa la pena alla fine che riesca a trovare qualcosa di buono in questa stanza niente non riesco a colpirlo sicuramente mi ha lisciato anche lui niente ancora lui mi ha mancato sono riuscito a colpirlo oh finalmente l'abbiamo sconfitto e troviamo niente però spero che in questa stanza ci sia qualcosa ok e dove si preparano i cadaveri c'è un grande tavolo con oggetti con degli attrezi sconosciuti quindi questa la chiamiamo la stanza dell'imbalsamazione imbalsamazione ok e c'ha un'uscita di qua suppongo che mi connetta con questa stanza suppongo controlliamo la stanza sta ispezionando la stanza e trovi save monete solo tutto qua vabbè andiamo a test c'è una scala che porta in quattro direzioni e che connette con il livello superiore della gritta quindi c'è una stanza qua e un'altra stanza qua sotto ok allora in realtà tutta questa roba la posso spostare molto più in alto oh vai perché non me lo seleziono ok no questo no questo qua posso spostare tutto tutto tipo qua ok perfetto allora diciamo che questa è connessa qua e questa è connessa qua così abbiamo detto che qui c'è la scala scala e proviamo andare a est però prima controllo ho trovato una pozione di guarigione ottimo andiamo a est un altro ghoul aspita vabbè io devo dire una fiala per forza eh una però me la voglio tenere da parte quindi noi ci farò a cazzotta speriamo che non sia troppo cattivo mancato l'attacco anche lui continuiamo ad attaccare mancato l'attacco lui invece riesce a colpirmi e io fallisco e mi fa 6 danni ma io gli tiro la fiala va ecco l'ho sconfitto la stanza è piena di strumenti tecnici erbi erbe e fiale di vetro questa stanza sembra essere un laborio di alchimia controlliamo la stanza quindi questo lo chiamiamo laboratorio laboratorio e trovo un lockpick c'è un'altra stanza qua sotto così proviamo ad andare a sud la stanza con il camino decorata con tappezzerie pitture e candeliere e armature preziose diamo un'occhiata questo è il la stanza del camino diciamo e trovo ho un'altra fiala incendiaria bene camino e c'è un'altra stanza qui così andiamo est una grande sala del trono con un tavola per il cibo alla fine si trova un nobile trono diamo un'occhiata e trovi 19 monete d'oro quindi qui ci schiamo trono trono e c'è un'altra stanza verso sud qua così ecco qua andiamo verso sud entri in un corridoio alla fine della strada si trova il corpo di un nano ah forse è il nano che eravamo andati a cercare il suo corpo è coperto di una melma verde corrosiva nella sua mano tiene uno strano artefatto viola lo prendi con te ed abbiamo recuperato tutti quanti gli artefatti la pesante porta dietro di lui ha 5 buchi 5 alcove nelle quale sembrano potersi mettere gli strani artefatti colorati saranno forse le chiavi per uscire da questa catacomba vuoi fronteggiare il tuo destino e usare gli artefatti ma si abbiamo tutti e 5 yes piazzi 5 artefatti negli incavi si sente un suono come di un ingranaggi che girano e la porta sembra aprirsi improvvisamente senti un suono melmoso provenire dietro di te ti giri e vedi un mostro melmoso alto 10 piedi circa 3 metri che viene verso di te la strada per la fuga sono bloccate devi fronteggiare il tuo destino adesso quindi dovremmo combattere penso questo che è il mostro finale lo slime oh io gli dico tiro la fiala è l'ultima che ho io ho fatto un po' male non ho altre fiale e quindi adesso devo fare cazzotti temo che mi farà male però vabbè abbiamo ancora una pozione speriamo di riuscirci lo riusciamo a colpire forse è il mostro finale siamo arrivati alla fine del gioco riesco a parare ok ha un'armatura che vale 3 io non sono riuscito a trovare nessuna armatura però riesco a colpirlo però lui riesce a parare e ha sbagliato il colpo oh forse forse ce la famo ha sbagliato l'attacco anche lui continuiamo a menare siamo riusciti non è riuscito a pararsi bene lui riesce a colpirmi ma riesco a parare ok attacchiamo ancora lo riesco a colpire e lui non riesce a pararsi io lo stiamo a menare bene però lui mi attacca e non riesco a pararmi mi fa 6 danni aia fa male vabbè attacchiamo ancora ho sbagliato l'attacco lui invece riesce a colpirmi ma io riesco a parare ok l'ho colpito un'altra volta gli ho fatto due danni lui sbaglia l'attacco continuiamo ad attaccare se c'avevo un'altra fiala sarebbe stato molto più facile riesce a colpirmi ma mi riesco a parare attacchiamo quindi bisognava raccogliere questi 5 artefatti di cui uno si trovava nella stanza dove c'era il nano lo riesce a colpirmi ma riesco a pararmi c'ha solo due punti ferita vediamo se riusciamo a ammazzarlo no si è riuscito a parare mi colpisce aia mi fa 6 danni attacchiamolo ancora riesco a colpirlo e non riesco ok sconfitto bene che succede mo hai preso 100 pezzi d'oro bene forse abbiamo concluso il gioco vedo che sta caricando vediamo che succede c'erano ancora un paio di stanze che non avevo esplorato come quella con la wright e qualche cosa a questo piano qui però per i test mi pare che avevamo esplorato tutto quanto il mostro si lamenta e cade su se stesso lasciando un lago di slime acido sul sul pavimento l'odore ti brucia all'interno delle narici e cammini di lato per evitare il contatto con lo slime velenoso ora la via per il portale è libera tempo di lasciare questo posto dannato dietro di te afferri la torcia dal muro e cammini attraverso il portale nelle oscurità sconosciute la torcia brilla brilla insomma ha una poca luminosità e ti offre solo pochi metri di vista mentre cammini lentamente attraverso un lungo tunnel che sembra molto lungo che porta diretto verso nord molto al di là molto lontano dalla città che si trova sopra di te Radrik il tunnel sembra essere molto antico e le parti di regno sembrano marce chiunque abbia costruito un tunnel sotto la terra chi avrà mai costruito un tunnel sotto la terra che porta a una fortezza segreta sotto la città di Radrik ti chiedi e perché ti chiedi la domanda rimane nel tuo cervello mentre cammini verso nord all'interno del tunnel minuti senza fine più tardi vedi la luce del sole alla fine del tunnel e esci sali una scala di legno scali sali fino a un portello di legno che serve come porta la luce del sole brilla attraverso le assi muovi questo portello di fianco e esci fuori attraverso dance scrubs non so cosa sia saranno terriccio è mezzogiorno e il sole brilla i tuoi occhi devono ancora ambientarsi dopo il lungo tempo che è passato nell'oscurità l'uscita da questa caverna deve essere stata tenuta segreta per molto tempo decidi di ritornare a radric e dire all'oste riguardo al destino del suo amico con i 225 225 monete d'oro nella tua tasca puoi vivere una vita senza pensieri per un po' di tempo e concentrarti su un'altra avventura la ricerca degli orchi che hanno ucciso i tuoi genitori vediamo se c'è altro ma questa è un'altra storia e credo che questa sia la fine del gioco infatti premendo E si fa AND abbiamo guadagnato 578 punti esperienza 225 monete d'oro e abbiamo giocato per un'ora 14 minuti e 34 secondi Anikei che fa? sta caricando? ho fatto il nuovo punteggio scrivi il tuo nome non me lo fa scrive non me lo fa scrive non me lo fa niente vabbè ok niente sarà impallato va bene ok Q2 quit e qui finisce e qui finisce il gioco e ritorna alla schermata del Commodore 64 ok il gioco devo dire che è abbastanza breve però è molto molto carino mi è piaciuto mi piace l'atmosfera che riesce a creare sono un po' come avete capito un po' un appassionato delle avventure testuali perché senza grafica ci dobbiamo immaginare nella nostra testa lo scenario ed è sempre molto più elaborato è molto più avvincente di qualunque di qualunque schermata grafica di qualunque schermata grafica quindi da questo punto di vista secondo me riesce a creare bene l'atmosfera di questo dungeon buio e misterioso che si trova sotto la taverna dove ci siamo fermati a dormire dal punto di vista tecnico il gioco come vi ho visto è molto molto semplice in realtà le uniche cose che si possono fare sono raccogliere questi attrezzi da scasso le fiale incendiarie e le pozioni di guarigione che possiamo utilizzare quando ce n'è bisogno ci sono riguardando un'occhiata un attimo alla mappa c'è questa stanza qua che si trovava nella cripta che non abbiamo che non abbiamo esplorato e poi c'era la stanza dove c'era il wright che non abbiamo che non abbiamo provato ad ammazzare ma forse forse con la spada avremmo potuto affrontare però avremmo potuto probabilmente usare qualche fiala incendiare che poi non avremmo avuto a disposizione nel combattimento finale comunque nel complesso devo dire che il gioco è molto carino semplice però ho fatto veramente bene anche considerando che ha fatto tutto quanto in basic quindi complimenti allo sviluppatore come ho già detto metterò il link nella descrizione per chiunque voglia scaricare il gioco ed eventualmente lasciare una donazione allo sviluppatore questo però mi ha reso come dire curioso di vedere il seguito vorrei vedere come prosegue la storia in evil dungeon 2 che è uscito da qualche giorno magari lo porterò più avanti fatemi sapere se il gioco vi è piaciuto io l'ho trovato molto interessante come ho detto semplice ma fatto fatto bene e divertente da giocare non troppo complicato il gioco insomma scorre scorre abbastanza abbastanza piacevolmente l'unica cosa ecco bisogna farsi una mappa io l'ho fatta con questo programma però potete fare su un pezzo di carta l'importante è farsela perché come da visto c'è il rischio di perdersi e di impicciarsi però nel complesso il gioco devo dire che è stato molto divertente ci vediamo alla prossima ciao ciao